Un saluto sempre da parte mia come coordinatore provinciale del Libera Socialisti, il nuovo PSI. Questo mio intervento vuole essere un aiuto a chi sta ricevendo in questi giorni, come hanno ricevuto negli altri anni avvisi di accertamento da parte del Comune per i IMU, Tari o d'altro, altri tributi locali. Specialmente in questo caso qui però parlo dell'IMU. Stanno arrivando, come sono arrivati, avvisi di accertamento a soggetti che non hanno pagato l'IMU. E voi direte, è giusto. Sì, a soggetti che non hanno pagato l'IMU, magari tra marito e moglie non ha pagato la moglie perché doveva pagare la moglie però ha pagato il marito. In questo caso quindi l'avviso di accertamento è iniquo perché ci sarebbe, verrebbe fuori un indebito di arricchimento del Comune e vi spiego il perché. Perché se non c'è, se c'è una posizione di pareggio, credito debito, nei pagamenti il Comune non ha danno. Non vi è danno nei confronti del Comune, non vi è danno erariale. Quindi qual è il problema? Perché non pareggiate conti? Perché stanno arrivando avvisi di accertamento vengono le persone, viene il contribuente. Io mi ricordo quando ero amministratore della Master, venivano i contribuenti a dire ma io ho pagato per mia moglie, ho pagato per mio fratello e il Comune mi manda l'avviso di accertamento. Sono andato dal dirigente e mi dice che per legge e per regolamento comunale io devo fare richiesta di rimborso perché non dovevo pagare io, ma doveva pagare mia moglie e quindi a lei fanno la ripresa degli importi, dei tributi, in più applicano le sanzioni del 100%, quindi in poche parole richiedono i soldi. Ora il problema ulteriore è che siccome gli avvisi di accertamento di norma, non è che la fanno apposta, ma sono tanti i lavori da fare, arrivano alla fine del quinquennio, quando arriva l'avviso di accertamento chi ha pagato e dovrebbe chiedere il rimborso non è più nei termini e quindi perde quello che ha pagato e nel frattempo quindi richiedono la stessa cifra che il Comune aveva incassato da uno, la richiedono all'altro, poi aggiungono anche la sanzione, quindi tre volte, vengono pagati tre volte gli importi. Ora uno dice vabbè ma dura l'ex, sede l'ex, no non è così perché la legge è diversa. In tante altre città, specialmente anche dove città universitarie come Genova applicano la legge, qui io non capisco perché continuano, dicono ma è regolamento. Allora cominciamo a dire che nel sistema giuridico italiano la normativa ha forma piramidale, quindi se una norma è di grado inferiore a quella superiore, soccombe a quella superiore. Cosa voglio dire con questo? Che esiste una norma nazionale, l'articolo 8 dello statuto del contribuente, legge 212-2000, che poi vi dirò qual è, che cozza contro quello che dice il regolamento comunale che non si può fare, quindi il regolamento dovrebbe soccombere su questa norma. Cosa dice questa norma? L'articolo 8 del statuto del contribuente dice che un soggetto si può accollare il debito erariale di terzi se ha un credito, anche se non ha un credito se lo può accollare, l'importante è che ne dia comunicazione al comune. Ora quindi se è per me la formalità perché non chiedere una dichiarazione di accollo del debito da parte di chi ha già pagato visto che non c'è un danno erariale? A questi punti si compenserebbero le posizioni, debito-credito, non ci sarebbe danno né al comune né al contribuente. Perché vessare il contribuente? Gli si vuole togliere dei soldi per forza? Viene fatta questa domanda spontanea, perché dice c'è il regolamento, ma il regolamento è superato da questa norma che ha valore superiore, è di grado superiore. Allora io suggerirei, come avevo già suggerito diverse volte all'amministrazione, di adeguarsi a questa normativa nazionale, perché l'articolo 8 della legge 212 del 2000 non dice che non si possono pareggiare i conti, perché prevede l'accollo. Capisco che ci sia da lavorare di più da parte dei dipendenti per vedere se per caso chi vorrebbe accollarselo che ha il credito. Ha magari delle pendenze, però verificato che non ha pendenze, perché non riconoscergli la compensazione? È solamente una vessazione se si vuole continuare in questa maniera. Quindi chiedete quello, andatevi a leggere l'articolo 8 della legge 212 del 2000, adeguate il regolamento e andate incontro al cittadino, che sono momenti in cui i soldi in una famiglia sono importanti. Grazie, buonasera.